E qui con noi, come tutti i martedì, Walter Cherubini, Presidente Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, una buona giornata. Buongiorno Walter. Allora, oggi iniziamo parlando di un tema che ha a che fai con le periferie, ma non necessariamente sempre solo con le periferie. Parliamo degli ambrogini d'oro anche noi. Perché? Perché insomma, dopo questa grandissima polemica intorno all'assegnazione dell'ambrogino d'oro Alpucci e il sindaco che ha detto che viene utilizzato, come è che era detto proprio la gestione clientelare del Consiglio Comunale rispetto alla scelta degli ambrogini, in realtà come consulta periferie Milano, il tema dell'ambrogino l'avete già toccato tempo fa, dicendo sostanzialmente bravi, bello, tutto bene, tutto bello, ma poi una volta che diamo gli ambrogini cosa succede? Diciamo che abbiamo cominciato ad affrontare questo tema nel 2011 e uno dirà, vabbè, ma in questi decenni che cosa avete combinato? Abbiamo fatto 800 concerti intanto, abbiamo pensato agli ambrogini, ma intanto abbiamo fatto 800 concerti e anche altro. Ma ecco, a proposito dei concerti, abbiamo fatto questi concerti perché abbiamo anche raccolto la disponibilità di, mediamente, negli ultimi anni, di 40 cori amatoriali che si sono resi disponibili a cantare nelle feriferie, non in luoghi bucolici, chissà dove, al conservatorio o altro, ma dove gli chiedevamo. Ecco, allora, questa qui è una logica, guardate quante risorse ci sono in città e possono essere, tra virgolette, piegate a un utilizzo periferico, con reciproca soddisfazione, perché se, tanto per associare la data, dal 2011, quando iniziamo, allora a Figino, ma proprio c'è una coincidenza temporale, tra l'altro, perché nel 2011, a gennaio, facciamo proprio a Figino, in quello che era il percorso periferie chiama, ma Milano risponde, e quindi avevamo proprio fatto un incontro dando la parola agli ambrogini che erano associati a consulta periferie Milano, per dire, ma avete preso l'ambrogino e allora che cos'è che è successo? Ma proprio nel 2011 abbiamo avviato lì la prima rassegna coristica Cori Milano per le periferie, con quattro cori. Se sono diventati 40 questi cori, mediamente ogni anno, avranno avuto il loro interesse. Ma vuol dire che ci sono tantissime risorse che possono essere messe a fattor comune, ma normalmente per come viene impostato il concetto organizzativo, che è quello del progetto, facciamo una sperimentazione. Sono sempre cose, diciamo così, singole, che non diventano politiche. Si perdono un po', nel senso che appunto voi cosa avete fatto? Avete dato un'operazione di riconoscimento sul territorio di realtà che esistevano, che c'erano, le avete valorizzate e le avete anche, tra virgolette, sfruttate, o meglio, le avete dato la possibilità di dire fate quello che sapete fare, appunto, e quindi tutti i concerti. Sì, perché in mezzo a questi oltre 800 concerti, quasi 400 sono stati fatti grazie alla disponibilità dei cori in una trentina di sedi periferiche. Voi un po' criticate che invece l'Ambrogino non faccia questa operazione, nel senso riconosce, trova questa realtà, le riconosce, ma poi quando magari ce n'è bisogno non vengono interpellate, giusto? E' questo un po' il tema. Ma diciamo, in primo luogo direi una cosa. Gli Ambrogini, che cos'è che, qual è la motivazione? Additare alla pubblica estimazione, un linguaggio magari un pochettino arcaico, l'attività di tutti coloro che abbiano in qualsiasi modo giovato a Milano. Io ti riconosco perché hai giovato a Milano e allora dico, città di Milano, amministrazione comunale di Milano, che è l'espressione istituzionale, ma se mi hai additato a tutti quanti, perché non mi utilizzi? Certo, ma non in maniera sporadica, in maniera strutturata, perché tra le altre cose gli Ambrogini sono un riconoscimento che è data 1925. Quindi, diciamo che fra un po' abbiamo il centenario degli Ambrogini. Aspettano noi, Lorenzo, per darcelo. Ne sono stati riconosciuti, tra associazioni, enti, persone e quant'altro, oltre 5.000. Negli ultimi vent'anni, diciamo così, tra una cosa e l'altra, ne sono stati riconosciuti circa 700-800. Adesso vado un pochettino spanometricamente. Quindi, soprattutto le realtà associative, che sono realtà continuative, non è che siccome hanno preso l'Ambrogino vent'anni fa, poi sono spariti dalla circolazione, anzi, generalmente sono tuttori in campo. Ecco che allora possono portare, messi insieme nella loro eterogenità, perché l'Ambrogino, per esempio, una persona l'anno scorso ha avuto l'Ambrogino, è un ingegnere che ha inventato le eliche, le eliche delle navi. Cioè, questo ha fatto un'invenzione dove le navi girano in tutto il mondo, per cui sicuramente è una grande cosa. Ecco, per dire qual è anche il livello, si parla spesso di mercato delle vacche. Non entro nel merito, Giorgio Bocca coniò questo tipo di definizione. Cosa diceva il sindaco adesso, invece di stare clientelare cosa succedeva. Però poi, andiamoli a vedere questi, queste tra virgolette, perdonatemi il termine, Bocchiano, no, vacche. E perché se noi andiamo a vedere delle cose, vediamo che ci sono... Cioè, tutti hanno qualcosa da dare e vorrei anche legarlo, ma poi magari particolarmente dopo il tema della casa. Infatti, dopo ne parliamo, ne continuiamo a parlare, ma in fondo il tema è interessante per capire meglio che cosa si potrebbe fare appunto con coloro che vincono gli alborgini d'oro. È un tema interessante, interessante per tutta la città e anche per le periferie. Torniamo fra pochissimo, adesso un momento di Elodie con Affari Spenti. Elodie, Affari Spenti, rientriamo in trasmissione, anzi in stress, media stress, come si dice in questi casi, perché siamo sul pezzo, siamo sulla notizia, parlavamo di alborgini d'oro. Un alborgino importante è quello che verrà dato a Ilaria Lamera, la ragazza che ha inventato un po' il movimento delle tende, così è stato chiamato. Proposto dai Verdi. Proposto dai Verdi, accettato dal Consiglio Comunale, quindi verrà insinita appunto nell'alborgino d'oro in quanto ha portato alla ribalta, se ce ne fosse ancora bisogno, in realtà il tema della casa, soprattutto in questo caso legata agli studenti, ma tema della casa che non è legato solo ai studenti, ma è legato a tutti i milanesi ed è un tema stralegato con le periferie, giusto Walter? Ma qui torniamo sempre, anche qui per ogni persona, per ogni ente a cui è stato assegnato l'Ambrogine, in questo caso all'attestato di benemerenza civica. Proviamo a cogliere questa occasione. Allora, c'è una grande medaglia che è data all'Università degli Studi di Milano perché fa il centenario fondata dall'allora sindaco Mangiagalli, della clinica Mangiagalli, tanto per intenderci. Quindi diciamo che le cose si chiudono. Ci sono modi e modi di approcciare le cose. Tutti quanti possono avere un certo tipo di rilievo. Ai tempi, mi lego a un fatto personale, avendo fatto l'Università degli Studi di Milano, in particolare la Facoltà di Legge, ero stato eletto ai miei tempi rappresentante degli studenti nel Comitato di Gestione degli Impianti Sportivi. Tutti quanti si candidavano al Consiglio di Amministrazione, chi ha il Consiglio di Facoltà e quant'altro. Io ho sempre avuto delle strade un pochettino strane, quindi il Comitato di Gestione degli Impianti Sportivi. Però in questa logica qui, che cos'è che facciamo? Organizziamo tutta una serie di tornei di calcio e di pallavolo per gli studenti e le studentesse universitarie, perché la pallavolo in particolare è frequentata dalle ragazze più che dai ragazzi. Il torneo di calcio più grosso che facciamo fu appunto quello di calcio su tutte le università milanesi, che allora non erano quelle che ci sono adesso, perché adesso le università e le accademie sono numerosissime, allora è un pochettino ristrette, però 80 squadre per circa 1200 universitari che andavano a giocare. Quindi la logica era bene, sei in un'istituzione ma cerchi di dare una risposta. Adesso chiaramente non pretendiamo che una studentessa che viene da Bergamo conosca la realtà milanese. Allora, un conto è porre l'attenzione a un tema, un'esigenza, poi ha avuto anche una bella idea, un conto invece è affrontare strutturalmente le esigenze abitative che ci sono utilizzando tutto quel vasto parco di abitazioni, se pensiamo a quelle pubbliche, anche quelle sotto soglia di cui abbiamo parlato alcune volte, dove appunto la logica che abbiamo proposto era quella, cerchiamo di rigenerare socio abitativamente le periferie e possiamo dare agli studenti universitari tutti gli appartamenti sotto soglia perché non hanno problemi sicuramente a vivere in un monolocale. Infatti questi monolocali che sono circa 1000 a Milano, di cui ai tempi 500 non erano utilizzati, sono la risposta alla necessità degli studenti universitari. No, ma noi se lo guardiamo perifericamente, uno, utilizziamo delle risorse che abbiamo nella città e quindi ho poco bei cori. Uno, utilizziamo delle risorse che abbiamo. In secondo luogo, queste risorse quando vengono, perché la logica era anche quella, vengono ma fanno qualcosa per il territorio, per il quartiere dove sono. Certo, non uno. Adesso c'è l'abitabilità, l'ospitalità diffusa di cui si sta parlando. Ecco, però, dal punto di vista dell'abitare nella città, noi dobbiamo vedere, rispondiamo a quel particolare problema oppure vediamo questa situazione e cerchiamo di svilupparla dando una risposta alla città che ha tutta una serie di falle. Milano sicuramente ha tutta una serie di opportunità, infatti vengono molti a Milano, però anche tutta una serie di falle. Ecco, allora, è un'occasione per riflettere, ma riflettere da un altro punto, direi, di vita, dal punto di vista abitativo. Un altro punto di vita mi piace, non dal punto di vista, ma ormai è un uomo di radio anche Walter. Allora, adesso noi andiamo ancora con una canzone, poi quando torniamo ci dai magari qualche appuntamento o comunque magari ci racconti quello che potrebbe succedere anche nel futuro prossimo, appunto, delle periferie. so che c'è una scuola di periferie, quindi insomma, ne parliamo bene fra poco. Prima è il momento di Tom Grennan con How Does It Feel, alle 8 e 47 minuti, qui su Crystal Radio. Tom Grennan, How Does It Feel. Continuiamo a parlare di periferie, lo continuiamo a fare con Walter Cherubini. Walter, sono tante le iniziative che fate anche per comprendere meglio le periferie, per imparare cosa significa periferie. Sì, ecco, facciamo una chiusura con gli ambrogini, diamo qualche numero per magari i nostri radioascoltatori che non sono avvezzi al tema, e quindi quest'anno abbiamo, oltre all'Università degli Studi di Milano, abbiamo 5 medaglie d'oro alla memoria, dopodiché abbiamo 15 medaglie a una serie di persone, e dopodiché una serie di persone e enti, 20 attestati di benemerenza, quindi diciamo che i premiati sono complessivamente oltre 30. Ecco questo qui, c'è un regolamento nuovo che ha dato gli impegni. Tutto sotto il cappello dell'Ambrogino d'oro viene chiamato, in realtà ma appunto viene diviso, metà medaglie, attestati. Ambrogino appunto, 7 dicembre al Teatro dal Verme, dove ci sarà la cerimonia di conferimento di questi attestati. Per quanto riguarda i prossimi programmi, a scuola di periferie, perché noi continuiamo ad affermare che se non si conosce la città per quello che è, abbiamo fatto recentemente un incontro a Villa Scheibler, in quel di Quartogiaro, dove sono stati tra l'altro chiamati tutta una serie di ex consiglieri di zona o presidenti di zona attualmente in essere, proprio un'ampia platea, e ho detto, sapete che c'è a Siano a Milano? Ci sono state 50 persone, uno sapeva, e gli altri tutti consiglieri, anche parlamentari nazionali. Allora, c'è un vuoto didattico, noi dobbiamo esattamente costituire e sapere qual è l'ABC delle periferie, perché se non conosciamo la città non c'è niente da fare, faremo delle cose, ma ne perdiamo un mucchio. In problematicità che ci sono, e quindi non si risolvono, ma anche nell'utilizzo di queste risorse. Quindi facciamo a scuola di periferia, abbiamo avviato, stiamo avviando adesso un po' il rodaggio, a Niguarda, allo Stadera, a Quartogiaro, a Lambrate, e dopo come sedi tematiche, dove c'è Abruzzano per i municipi e il decentramento, che è un tema che appunto è al primo punto del decalogo dalle periferie per ripartire, dopodiché ci sono il punto dei doposcuola a Baggio, il punto della comunicazione territoriale a Quarto Cagnino. Ecco quindi l'idea, che è un po' anche quella di valorizzare gli ambrogini, qui così non valorizziamo gli ambrogini anche, ma chi vuole persone singole o realtà associative, che vogliono mettersi a studiare, a comprendere qual è la realtà delle periferie nella loro articolazione, quindi anche trovare delle soluzioni, perché se le periferie ritornano in ballo vuol dire che l'approccio non è adeguato e quindi bisogna anche costruire un approccio adeguato, questo in connessione con delle realtà cittadine, pensiamo con la City School per il governo delle grandi città di fondazione di Oguardi assieme al Politecnico di Milano, ma anche sostenuta dal Comune di Milano e dalla città metropolitana di Milano, che appunto cercano di promuovere dei corsi universitari, perché quando uno va a gestire il Comune di Milano, dov'è chi ha imparato a farlo? Da nessuna parte. Ed è chiaro che poi uno fa quello che può, ma noi non ci possiamo permettere addirittura a Milano di avere qualcuno che fa quello che può. Uno deve essere come in campo di calcio, se prendiamo un centro avanti deve sapere che deve fare i gol e deve essere anche capace. Non è che possiamo dire e speriamo imparerà. Troppo spesso in una grande azienda ha imparato a gestire Milano, Walter, direi. Eh sì, i sindaci arrivano da quelle robe. Ma non solo sindaci. No, molte volte. Questo dal privato è sempre meno dal pubblico. È sempre complicato poi riuscire. Sì, nel senso il privato può darti degli insegnamenti, poi devi declinarli. Esatto. C'è da imparare dappertutto. E chiaramente, dato che abbiamo fatto un esempio semplicissimo, è chiaro che se io voglio gestire un negozio e faccio il commerciante, c'è un discorso. Già una catena è diversa. Se faccio la gestione di una catena a supermercati, pensa, ecco, come è stato ribadito anche in quell'incontro a Quartogiaro, noi abbiamo una struttura organizzativa, amministrativa, che è quella del 1800. Ed è cambiato completamente la realtà. Sarebbe meglio aggiornarla un attimo. La burocrazia, il PNR, non siamo in grado... Eh, ma facciamoci una riflessione, facciamo anche dei cambiamenti strutturali. Spesso il tema delle regole è importante, il tema dei cambiamenti strutturali. Ma sicuramente ne parleremo ancora, ne parleremo ancora martedì prossimo, sempre qui con Walter Cherubini. Grazie Walter di essere stato qui con noi. Grazie a voi, ai radioascoltatori in questo caso. Eh sì, e grazie appunto perché lì per riferire c'è sempre bisogno di ascoltarle, raccontarle, ma ascoltarle anche. E anche conoscerle, che non guastra. Perché appunto si possono poi conoscere meglio e capire davvero che cosa significa quel termine che, come dico, il MIT di Boston, quante significate... 200 utilizzi del termine periferia, diversi e anche contradditori. Quindi, pensate... Noi parliamo invece di periferia urbana, quella di una grande città all'interno dei confini amministrativi comunali. Va bene, allora andiamo con la nostra sigla, caro il mio Lorenzo, lo sai? Sembrate alla fine. Eh sì, sembrate alla fine. Andiamo con la nostra sigla, Dance to the Music. Dance to the Music. Dance to the Music. Dance to the Music.